Benvenuto Antonio Monda, scrittore, critica, autore, bentornato, insegna alla New York University. E' uscito oggi, intendendo oggi martedì, sarebbe ieri, il suo ultimo libro Incontri ravvicinati per la nave di Teseo. Allora, 150 personaggi tra scrittori, attori, registi intellettuali che ha conosciuto e frequentato da quando vive a New York. Chi sono? E beh, c'è di tutto, si va da Meryl Streep a Martin Scorsese, ma non solo a Giorente di Cinema, a Philip Roth, Solbello, Michael Cunningham, Cate Blanchett, Donna Tartt. Tutti a casa sua? E beh sì, tutti a casa sua. Complimenti, come si fa a invitarli? Con semplicità, con semplicità. Una delle regole è non dare mai l'impressione che ci sia un interesse se non volerli conoscere, volerli frequentare. Non ho mai chiesto nulla a nessuno di queste persone. Generosamente alcuni di loro mi hanno appoggiato in alcuni momenti, sarò il loro grado dell'eterno, ma tranne qualche intervista non c'è mai stata nessuna chiesta e né i miei ospiti hanno mai fatto nulla per importunarli. E infatti non è definibile un salotto come si intende. Erano proprio amici suoi, c'erano queste cene a casa di Monda. Ci sono tutt'ora, quindi se qualcuno vuole partecipare può mandarci una mail. Cosa succedeva? Che tipi sono? Chi l'ha colpita più di altri? Beh la persona che in assoluto mi ha colpito di più per l'intelligenza profonda e anche lo spirito è Philip Roth. Mi onoro. Grande scrittore. Grandissimo scrittore, è stato anche molto generoso con me. Era un uomo spiritosissimo, intelligentissimo, con un senso della vita tragica. Tragico e probabilmente l'umorismo, anzi certamente l'umorismo è un modo per esorcizzare, è un modo di rendere catartico questa condizione abbastanza drammatica del suo sguardo sul mondo. Detto questo gli devo moltissimo, gli devo non solo l'affetto che mi ha donato, la generosità con cui mi ha appoggiato letterariamente, ma soprattutto gli devo l'amicizia. È una persona con cui è nato proprio un rapporto di affetto. Non l'ho mai raccontato pubblicamente perché sembra volersi vantare, ma adesso non posso più negarlo. Quindi sicuramente scrittori della sua generazione, ma probabilmente un eco anche maggiore. Robert De Niro. De Niro è un uomo molto introverso, è diversissimo da Philip Roth, che tra l'altro si sono conosciuti proprio a casa. È un uomo introverso, chiuso, di poche parole, ma di assoluta sostanza e di assoluta qualità. È un uomo che non ama apparire in pubblico, se lo intervisti qua ti risponde a monosillabi, non fa spettacolo, però poi sul palcoscenico è un gigante. Innamorato dell'Italia. Assolutamente della costiera amalfitana. È proprio innamorato di Napoli circondario. Meryl Streep. Beh, è la più grande di tutti. Lei è proprio la quintessenza di quello che si dice, non solo il method acting, un'attrice che lavora seguendo il metodo come De Niro, ma è quello, c'è un proverbio americano che dice che la qualità nell'arte è il 5% inspiration, cioè l'ispirazione, il 95% perspiration, cioè il sudore, la fatica. Lei è metodo, 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 fatica, fatica, fatica per arrivare alla perfezione. Come persona com'è? È squisita, sensibile, curiosa, è anche un po' una professionista della gentilezza, a dirla tutta, ma questo lo vedo come uno dei suoi talenti. Comunque è meglio che della scortesia. Però ci tengo a dire che l'interpretazione che dà nella scelta di Sofì, e non solo in quella, pensate al cacciatore, è una delle più grandi di tutti i tempi, e questo nasce proprio dalla fatica. Chi cucina quando è in vita? Beh, mia moglie. Se cucino io non viene nessuno. Solbello, un Nobel per l'anno. Beh, Solbello, un premio Nobel, e quello che mi ha dato uno dei consigli che ho voluto mettere qui, sul retrocopertina, che mi hanno un po' segnato, perché io lo sono andato a intervistare in occasione di un documentario che facevo sulla cultura ebraica, ovviamente, non potevo non intervistarlo. Io ho detto, maestro, all'epoca non lo conoscevo per nulla, posso chiederle un consiglio? Lui mi ha gelato e mi ha detto, chi vuole un consiglio in realtà vuole un complice. Ed è stata una bella lezione. È difficile dire cose scontate con persone del genere. Questo per dirti che è uno degli uomini più intelligenti, anche lui è spiritosissimo. La differenza con Roth, non sto facendo una differenza di qualità, sono due giganti, è che Roth aveva uno sguardo orizzontale, non trascendente. Bello invece era un uomo credente. Diceva, io credo in Dio ma non lo scoccio. Ma non lo? Non lo scoccio, mai. E per dirti l'intelligenza, se mi dai dieci secondi, quando lui vinse il Nobel, un giornalista, in maniera impudente, anche un po' rosa, gli ha detto, ma secondo lei le hanno dato il Nobel come scrittore americano o come scrittore ebreo? E lui ha risposto, ma l'hanno dato come scrittore. Punto. Antonio Monda, complimenti per il suo libro e per la sua attività. Grazie.